Musica Nella notte tra martedì e mercogliadì, durante l'ultima carata di reti, un giovane marittimo in forza al peschereccio Tenace di Chioggia si è infortunato a bordo dell'imbarcazione. Per la precisione gli si è incastrato il dito mignolo attorno a un attrezzo. Prontamente sbarcato, il pescatore è stato ricoverato all'ospedale cittadino, da dove è stato presto dimesso non prima di essere stato operato con un piccolo intervento. Purtroppo il ragazzo ha subito l'asportazione di un modesto pezzo della falange. L'infortunio è stato regolarmente denunciato alla capitaneria di Porto, come da normativa che obbliga il comandante. Complici della spiacevole circostanza, anche le condizioni difficili del mare, assai mosso per via della Bora. Ancora una volta il mare dimostra di essere il pane, ma anche la pena di chi lo vive per lavoro, come da secoli i chiogiotti sanno. Sono in corso, fino alla fine del mese, i lavori per realizzare una rotatoria nel lungomare di Sottomarina, all'altezza dell'incrocio con viale Tirreno. Gli operai stanno approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli per completare l'asfaltatura dell'area in questione, anche attraverso la chiusura al traffico del tratto terminale di viale Tirreno. Il cantiere completa così i lavori di posa nel megatubo, e i suoi effetti rivoluzioneranno la circolazione, specie nei mesi estivi. Contemporaneamente, poco più a nord, è in via di rifacimento anche il marciapiede del lungomare stesso, nella zona che congiunge il Clodia ai bagni Europa. In questo caso le opere sono contestuali alla sistemazione della nuova linea elettrica. I cantieri dovrebbero chiudersi proprio a ridosso della Pasqua. Questa mattina la Sala dei Lampadari in Municipio a Chioggia si è tenuta una conferenza per la presentazione di due progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e coordinati da Confesercenti Veneto. Si tratta di atelier d'autore e Wefernet reti in rete. Il primo ha per obiettivo la realizzazione di 20 corsi di formazione, 13 workshop, 9 attività outdoor e la concessione di tre borse di studio per la promozione turistica. Partner dell'iniziativa sono la capofila CESCOT, rappresentata alla conferenza da Marco Serraglio, il Consorzio Lidi di Chioggia e l'Associazione Albergatori di Sottomarina con Giuliano Boscolo, il Comune con il Sindaco Ferro e l'Assessore Angela D'Este, poi l'OGD, l'Università Veneziana di Ca' Foscari, il Comitato Veneto delle Proloco, l'Unione tra i Comuni della Rivela del Brenta, il Consorzio regionale delle Città d'Arte. Il progetto Wefernet invece si ripromette il rilancio dei consumi attraverso il cosiddetto marketing sociale, a servizio dell'attività no profit del territorio, collaborando con esperti di welfare, organizzazioni e parti sociali, università e denti pubblici e mettendo in rete città a vocazione turistica. Ne hanno parlato il direttore regionale di Confesercenti Maurizio Franceschi e Marco Palazzo, direttore dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, che dell'iniziativa è il capofila. Complessivamente, il Fondo Sociale Europeo investe 242.000 euro in questi due progetti. E' arrivato il giorno del premio Claudiense dell'anno. Oggi pomeriggio, dalle ore 18, nell'auditorium comunale di Calle San Nicolò, davanti alla cittadinanza verranno premiati con l'attestato di benemerenza i cinque selezionati della giuria dell'apposito comitato, nonché conferito il leon d'oro a uno solo di essi. Le nomination, in rigoroso ordine alfabetico, riguardano il giovane motociclista Federico Boscolo Bisto, il presidente dell'Associazione Albergatori e del Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chiorgia Giuliano Boscolo, il presidente del Mercato Ortofrutticolo e del Consorzio di Tutela della Dicchio di Chiorgia IGP Giuseppe Boscolo Palio, lo storico e scrittore Paolo Padoan, il portavoce del Comitato Civico NOGPL, Roberto Rossi. Lo scorso anno il riconoscimento era stato assegnato al direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben. La ULSS 3 Serenissima dedica la giornata della salute al tema dell'incontinenza urinaria, che arriva a coinvolgere circa il 10% delle donne e il 30% in età sopra i 70 anni. Lo fa con un evento pubblico a ingresso gratuito, in programma oggi pomeriggio dalle ore 17.30, nel poliambulatorio dell'ospedale di Chiorgia. All'incontro parteciperanno il direttore generale Giuseppe Dalben, il fisiatra Andrea Roncato del Servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, il primario di urologia Giuseppe Tuccitto è quello di ginecologia Luca Bergamini, la coordinatrice dell'ambulatorio di mobilitazione e riabilitazione funzionale Monica Marangon, la presidente regionale di Fincop Bertilla Ugolin e quello di Aiston Veneto Nicodemo Doria. Scopo dell'iniziativa è informare delle possibilità di passare dalla diagnosi alla cura. Si tratta di un problema che più delle volte viene vissuto con fatale rassegnazione da parte della donna, ma come spiegheranno gli specialisti, i servizi dell'ospedale di Chiorgia sono in grado di offrire alla paziente con incontinenza urinaria una risposta piena, anche chirurgica, fino alla riabilitazione. Oggi è il primo giorno di pesca della vongola di mare, la venus gallina. Questa, oltre che essere un prodotto sanissimo per chi è nato in mare, è anche una pesca egosostenibile, perché il pescatore si dà delle regole, fa il termopesca e quando va a pescare pesca solo quelle di taglia consentita dalla comunità europea. Perciò, buon appetito a tutti! Carissimi amici di Nettocazzurra, buongiorno e bentrovati per l'appuntamento meteo che ci porterà verso il weekend. Dunque, il flusso artico-continentale, quindi freddo, caratterizzato da venti di bora piuttosto forti e freddi, sta lentamente lasciando il passo a una circolazione d'aria più, diciamo, normale e consona per questo periodo, anche se naturalmente la notte, come abbiamo visto, ha portato a temperature minime fin verso i 0-2 gradi. Perché? Perché naturalmente il vento, non soffiando più con quella velocità, non friziona l'aria, non la scalda e quindi automaticamente, come dice lo terzo, c'è una dispersione di energia positiva più ampia e quindi le temperature si stanno abbassando ancora. Naturalmente però questo flusso artico-continentale che sta cedendo darà modo nei prossimi giorni di avere anche temperature diurne che si porteranno tra i 10 e i 12 gradi, non è poi molto vista la terza decada del mese di marzo, ma comunque è un passo avanti verso un cambiamento stagionale che fatica naturalmente a prendere corpo. Quello che vi posso dire è che probabilmente almeno fino a sabato, quindi anche domani, dopo domani, avremo temperature più consone, anche se alcune carte vedono l'entrata netta nel sud Italia di una nuova depressione che caratterizzerà il tempo negativamente, almeno fino all'Italia centrale, e che porterà da noi tutto sommato blandi effetti, soprattutto dal punto di vista delle precipitazioni, che probabilmente non avremo granché, ma nubi compatte, probabilmente in alcune parti della giornata si risalta che domenica, caratterizzando appunto il tempo del weekend, quindi non andremo incontro a un weekend di cieli puliti e tersi come oggi e ieri, ma soprattutto comunque tempo abbastanza incerto, ma quindi non piovoso, a parte qualche piovasco, come vi ho detto. Qualcuno mi chiede come sarà il tempo della prossima Pasqua, è un pochino presto per dirlo, possiamo dire comunque che la prossima settimana le correnti tenderanno a direzionarsi da ovest, quindi un tempo piuttosto atlantico, si presuppone l'arrivo di una fase piovosa tra mercoledì, giovedì, venerdì, e fino a là ci possiamo spingere, con dovuti chiaramente scongiuri, però stiamo un pochino a vedere. Concentrandoci su questo momento, possiamo dire che questa probabilmente sarà l'ultima fase veramente fredda della stagione invernale 2017-2018, e quindi speriamo appunto di non averne altre. Per il resto, concentriamoci sulla giornata odierna, che ancora sarà tersa, pulita e bella, con una leggerissima ventilazione di bora ancora, che cederà poi il passo sottosera a 20 da ovest. Quindi vi ringrazio, vi avevo una buona giornata, e buon lavoro a tutti. Ciao!